Ebbene a tutti e ben ritrovati! Ciao a tutti e ben ritrovati in un nuovo fanzissimo video! Anzi no, scusatemi, mi correggo stranississimo video! Come ben potete notare oggi mi sono fatto i capelli, ho fatto la permanente, la tinta, no, semplicemente che in alcuni video tutti ci hanno richiesto di portare una live in cui io facessi la parte della donzella con la solita parrucca, qua la mia chioma! Occhio che stai rompendo il set e abbiamo deciso di fare questo video qua, io portando la parrucca, lei è senza voce, quindi insomma è grande! Questa sfida consiste nel mangiare il pandoro e bere il caffè latte più mettere lo zucchero e girare! No, lo zucchero lo mettiamo a mano! No, se no non finiamo più, cosa c'è qua? Pasqua, Pasquetta, Antifania... Va bene che lo zucchero si va bene! Consiste nel mangiare il pandoro e bere il... E bere il... Dai! 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 Dai che schifo! Mangiateli! E bere il caffè latte o quello che vuoi! Prezza mani! L'unica cosa che potremmo usare la mano è fermare diciamo il primo che ha finito, fa lo stop, si prenota la vittoria e aggiungere lo zucchero perché prenderlo un cucchiaino è troppo difficile. Io lo inizio, ne metto due, anche un e mezzo, o due, uno, pronta! A ridere! Tre! Per i capelli! Tre! Vecchia! Tre! Due! Io li ho appena fatti! Tre, due, uno, via! Io li ho appena fatti! Io li ho appena fatti! Io li ho appena fatti! Sì, salato, sto facendo! Lo terrò male! Perché c'ho due bicchieri da sotto? Cioè, non vale! Ah, anche tu ce ne hai due! Io inizio a mangiare! Signore, io sono pronto! Anzi, pronta! Però ti ho mangiato anche i capelli! Non vale, tu ce la cosa! Vado! Vado! Vado perché io ce l'ho! Vado! Vado! Questo mi ha appettito! Mmm! Mmm! Mi esiste! Mmm! 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 Ho fatto si fa peggio! C'è un po' di parina in faccia! Ciao, faccio iðamali! Sennò li ha volj Twig吧! T programmingmême, Oggi ho le oce sistematiche! Io mi sento dich튀ka! Oh, te lo dici? Ooooooh! Vog', volta, un po' la skin? ecco già finito signori nei commenti scrivete la penitenza mi raccomando quel ti perde io li ho vinto è stato molto piccolo dovete sapere che lei in base a quello che c'è va a momenti mangia come un dinosauro poi a volte mangia come i pulcini le briciole, andiamo al ristorante li lancio due briciole del pane quando ti portano l'antipasto e ti porta la cesta del pane li lancio di due briciole e lei è piena quindi io risparmio dai che schifo adesso lo sputti e lo mangi vai no non lo fai non hai coraggio tu ce l'hai coraggio eh? 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 dipende vedi che cosa faccia? fanno cosa? è stupido sto mangiando non non vuoi usare le mani ma il tuo è dolce? no neanche il mio ahahahah 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 allora visto che stai perdendo io la propongo la penitenza fargli lavare i denti col sapone se siete d'accordo spolliciate e scrivetelo sotto nei commenti e scrivete hashtag babbo natale se li fai un po' cadenti se li fai un po' cadenti sottino oh ho finito è avuto del digestivo finiamo potete vedere non so se sei nato mi manca giusto un goccio qua da bere ho finito che schifo fai non puoi usare la mano l'ho avvicinito alla bocca anche il cazzo l'ho bevo finito è un piccione del tuo uomo signori l'ultimo sorso io ho finito sto per tempo sto per tempo stai schifo io ho vinto maiale ci sei resa ridicola io ho anche digerito maiale e la sfida è finita maiale vabbè non mi mancava molto oh signori per favore spolliciate scrivete nei commenti la penitenza fategliela pagare non scrivete nulla di che è tanto spericolato ma scrivete io propongo io pro 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 spazzolino più sapone e sale e lo devi fare sto giro perchè sono 20.000 video che diciamo scrivete la penitenza la facciamo e tra una cosa e l'altra le stiamo un po' sbagliando e se invece dice si dice sto facendo riprenditi un momento si rita un momento si rita prego dai che sto per spararne una e no e no e e e e e e e e nei commenti al posto di questo scrivete io faccio sempre tipo per te poteva finire più presto solo che lui ha lo stomaco più grande io ha lo stomaco più piccolino che mai sono una donna un po' più cresciuta tutto qua signori il video si conclude qua speriamo vi siate divertiti spolliciati iscrivetevi al canale se non lo siete ancora e condividete il video seguiteci sulla pagina instagram che ogni tanto qualche cargolata riesce fuori e mi raccomando non dimenticate di scrivere la pretenza ovvio non esageriamo siamo ancora all'inizio poco iscritti quindi perché ci conosce e sa che non ci spingiamo ancora oltre siamo capaci di tante minchiate però ancora presto detto ciò ci vediamo alla prossima specialmente lui è capace di tante ma tante minchiate vi prometto che arriverà il ballo in perizoma mio ma molto più avanti arriverà arriverà visto che insisto un po' arriverà il momento in cui ti accoltellerò detto ciò detto ciò signori ci vediamo alla prossima un grosso saluto e abbraccio da e te e il pirla di cocco ciao a tutti ciao a tutti